pom 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 che brutto inizio allora metto pubblico e ci dovrei essere credo spero forse vediamo vediamo un po 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 se fornite si degna di mandarmi in live fornite vabbè youtube allora io nel momento inizio già a studiarmi qual è la situazione Perché Molto importante per me è sbloccare Mida versione bella Quindi per sbloccare Mida versione bella Dobbiamo vedere un pochino che a tutto ci serve Mio caro Mida versione ombre Che sei decisamente più bello che versione spettro Eh però è bello in entrambi Fede vieni qua Cosa ne pensi tu? Di cosa? Versione spettro Versione ombra Il più bello ombra questa volta vero? Ok Cioè sta bene anche il bianco però il nero Secondo me è più appassionante Vero? Sì perché con l'oro così ci sta meglio Vai vai Poi come l'abbiamo visto ieri nell'agenzia Sì Allora quindi raga 418 Salve a tutti Siamo tantissimi 10.000 Ciao Buongiorno Allora dato che poi la prima cosa che mi chiedete Faccio una live di due ore e due remè Vediamo non lo so esattamente E morirò di fame sì Però a un certo punto Eh non esce il video Alle 14 e 15 Ma lo facciamo scelto tipo Alle 15 e 15 Alle 16 e 15 A che ore l'hai messo? 16 e 15 Quindi un video di Two Players oggi esce raga Semplicemente alle 16 e 15 Quindi È soltanto una live extra questa Per celebrare l'ultimo giorno di season Perché questo oggi è l'ultimo giorno in assoluto E di conseguenza Ha detto ah Celebriamolo Voglio anche prendermi le skin Tanto sta roba la faccio a priori Di conseguenza Approfittiamone e facciamo tutto assieme Allora mi sa che mi manca La versione modificata di Deadpool Vediamo un attimino Allora Ma è sott'acqua Deadpool Da quando? Lol Vediamo Settimana 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 Ok Ecco vedete Rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool Perfetto No perché Deadpool grigio è più bello che Deadpool rosso Per quanto mi riguarda per gusto personale Quindi lo voglio sbloccare Guarda che bello Eh? Però perché è con valori? Boh Vabbè sono tutte strane le missioni di Deadpool Sono sempre state così Allora Partiamo raga Dalle missioni di Mida Perché per me lui È l'obiettivo principale di quest'oggi Perché mi piace un sacco Mida Quindi lo voglio assolutamente Non voglio perderlo Quindi Vediamo un attimino Dispetto Disky Blablabla Ok Mida Informazioni nelle partite Nelle operazioni dei giochi di spie Ottieni informazioni nelle partite Ok Quindi questo giocando alle modalità particolari Abbastanza easy Questo mi sembra rotto le scatole Allora Infliggi Ah Sia lo yacht Sia l'agenzia Però Danni ai giocatori o scagnozzi Ok Easy Questo è sinceramente molto easy Pesca un pesce mentre sei a bordo di un cioppa Anche quello molto easy Dai facciamo queste due Facciamo queste due Mi faccio un match normale E secondo me Mida Lo completiamo già A quel punto andiamo già subito A fare le missioni Per prendere proprio la skin Ok Allora Allora insiste Dio che volevo giocare tutta la season E poi non l'ho fatta più Ma proprio non l'hai mai giocato La season Oppure l'hai iniziata E poi l'hai mollata Io il problema che ho principalmente È che sono Livello 278 E non ho fatto mezza missione Quindi mi sto bruciando Tutte le skin Della season Perché non faccio mai le missioni Stef I pantaloni Di Deadpool Si trovano a sabbie sudate Sull'edificio più alto Grazie mille Così poi prendo anche Deadpool BVB Che mi date tutte le info del caso E diventa tutto più semplice Allora Paparapapà Ragazzi Noi vengono già 11.000 Buon salve a tutti Buon salve e buongiorno Grazie mille Allora Vediamo Ma io Non può Non funziona Ma che cosa scomoda Vabbè Allora Scendi giù Allora Fareva in live oggi Non lo sappiamo Siamo un pochino In Foglia mod Perché quando c'è la nuova season di Fortnite Raga Tutti i nostri schemi I nostri calendari di registrazione Va tutto in esplosione Esplode tutto in contemporanea Perché ovviamente Devi stare dietro la nuova season Quindi non capiamo nulla Questi giorni I giorni delle nuove season Noi non capiamo niente Non so quando registriamo Non so quando edita Non so nulla Quindi non so neanche Chi fa le live Che giorni Eccetera eccetera Di sicuro ci saranno Delle live streaming Per la nuova season Quindi mi vedrete Spessissimo su Fortnite Tutta questa settimana Come ci saranno tantissimi video Però non so Per il resto Come siamo organizzati Foglia pura Allora quindi partiamo da yacht E facciamo danni allo scagnozzo Mi prendo l'elicottero Vado ad agenzia E faccio danni anche là Dopodichè Prendo una barchetta Canna da pesca Pesco tre pesciolini Papapam Fate due missioni A quel punto Comira mi sa che abbiamo finito Andiamo a farci l'altra Top Non ci ho capito nulla Neanche io Quindi immagino voi Sono proprio un genio Allora Pipipipi Pipipipi Pipipi Loro insiste Se ci sei ancora in live Mi mandi una mail Poi che ti volevo Chiedere delle cose Però non so se mi senti ancora Non so se ci sei ancora Nel caso Mandami una mail Tanto la trovi Dalle informazioni Del canale No 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 Dai ma cadere giù No però Che inizio è? Ci sono stati i player Sono già morto Buon inizio Ok Perfetto Vabbè quindi noi qua Dobbiamo fare soltanto danni Di conseguenza Potrei anche andarmene subito Però Mi sa che ci sono player E quindi non vedo Perché rinunciare Delle kill Seconda cosa Secondo me Se vado ad agency Senza neanche Scillini Così Ad occhio croce Potrei fare una brutta fine Avevi A cannappesca Mi serve Grazie Se tu davvero Mi hai Beh 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 Buon inizio oggi Così mi piaccio Mannaggia raga Che vergogna Il chop è l'elicottero Si può pescare Stando sull'elicottero Io non sono morto Dalle guardie Comunque Non è successo Quello che avete visto Non ero io Ma Stanno teamando Stanno teamando In singolo Che non si sono sparati E avevano la stessa skin Che top Dai A me piace sempre Che all'inizio della live È il momento in cui Ci sono più spettatori E io Do sempre il peggio di me Proprio Per dire Della serie Se qualcuno Non mi conosce Mi guarda Vai via Grazie E quindi 15.000 persone Arrivederci Sono pro player Però eh Il prossimo anno Partecipo ai tornei Promesso Guardate come edito Guardate Guarda 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 Non capisce più nulla Il player Guardate Sta scappando Perché ho editato Troppo fast Managgia Mannaggia A moi raga Ai 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 Partiamo al contrario Stavolta Ma Regency C'è un disastro È una sbatta Incredibile Allo start Ma cosa devo fare No dai raga andiamo alle yacht e poi vogliamo Troppa gente Ah no vabbè esplosa Forse non c'è troppa gente Andiamo a vedere dai Effettivamente Effettivamente Allora Mi hanno rimesso le puzzolenti E' vero abbiamo visto un player tirare le puzzolenti Non ci avevo neanche fatto caso Editi meglio di rankings Si 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 è vero è vero Edito i video Allora No Raga prendo l'elicottero e me ne vado Aspettate Vi faccio una di quelle cose che non vi aspettate Danno con l'elicottero un player Non ce l'ho fatta Allora abbiamo ancora delle possibilità Non c'è nessuno in alto Questo in acqua Questo in acqua lo distruggo Buongiorno No Facevo prima a prendere un'arma Sparare per andare via Vero Però ci piace complicarci la vita Si Da i miei player fatti Posso andarmene In mali modi per fare le missioni Raga Vabbè almeno facciamo le cose creative Nel mentre siamo 17.000 C'è più gente oggi che per l'evento Aspettate Cosa era Visita Agenzia Poi Guarda questo con l'elicottero Raga non ho letto l'ultimo posto da visitare Io vedo le battute di 7.99 Nel mentre Agli scagnozzi devi fare il danno No no ma potevo farlo anche Scusate Ok Stavo leggendo la chat E posso farlo anche ai player Quindi l'ho fatto Quindi ora basta che vado lì Faccio danno agli scagnozzi E ho finito con la missione Puoi far danno ad un player Invece che ad uno scagnozzo Con un elicottero Cioè Top Allora Steph ho preso il passaggio in secret Grazie No qua sto già arrivando alla quetta Dobbiamo muoverci Ma come faccio a pescare sull'elicottero Elicottero Ora mi devo inventare un modo Aspettate Eh sto elicottero lo facciamo esplodere Non me frega nulla Ok quindi missione andata Ok missione fatta Missione di mida andata raga Grandi così Dai che siamo forti oggi eh Avete visto Sono in forma Ehi C'è l'ai cubo blu Bello Ehi Una canna da pesca mi serve Dal passeggero Sì beh raga Quello l'avevo per scontato Però non avendo uno che lo guida Non ti permettere Bello No dai Lo shield No Guardate il mio elicottero parcheggiato Bella la tua skin È vero raga Che combinato tutto così È stra top Sto piccone con questo scudo Cioè è top fashion Lo sapete che sono fissato Sulle combo delle skin Solo che di solito me le criticate Ok Andiamo Ce ne va Raga 20.000 persone Così la tocchiamo leggera L'ultimo giorno di season Allora Dove troviamo delle canne da pesca Qui in zona Un bel molo Qua Eiu Forse c'era anche nell'isolotto Lì vicino allo yacht Vero Però io ho fatto Ho portato una missione a due di tre Visitando due luoghi Se vado anche nel terzo Mi faccio anche quella Non sarebbe male Non so di che cos'è Ma è una missione in più di oggi Cosa butto? Gli scillini Per prendere la canna da pesca Eiu Non ho mazza Allora Elicottero parliamone Io penso che faremo un incidente Io e te assieme Però dobbiamo provare a pescare dei pesci Io pensavo raga Guardate la mia strategia Mi fermo qua Così nella costa Vado nel posto Passeggero E pesco Secondo me è top Però devo trovare dei pesci Vero? Mannaggia Dai ma Sto trovando Tutto lo doubt Uno di tre Che sfiga o Altri? Avete visto che strategie? Manco Napoleone Faceva strategie del genere Io non Non voglio dirvi nulla Però non voglio far paragoni Povero Napoleone Però Queste strategie Non le trovi tutti i giorni Altre pozze Farebbero comodo In sta zona Perché così Non mi stanno a sparare Mentre pesco da un elicottero Che non è il miglior modo Eh bisogna trovare un po' di marci Pescando No da queste parti Non trovo nulla raga Eee Andiamo qua Mo se trovo quello Con la minigun di Brutus Che si sente Invincibile Mi lasera Ti impazzisco Spacco tutto Un lama Non c'è una missione Di trovare un lama? Non lo so Ma tanto mi servivano maz Quindi top Dopo il ritrovamento Allora Vai Ci mettiamo qua Parcheggiamo con calma Che non devo far esplodere L'elicottero Ma chi è che pescherebbe mai Da sopra Un'elicottero Nella vita No dai Ma non è possibile Che trovo gli scarri E non trovi pesci Ma c'è qualcosa Che non funziona Vabbè Questo è comunque un pesce Me lo tiro anche va Che tanto non lo spazi Io non ho parole raga Voi lo posso dire Che non ho parole Boh Un'altra pozzetta No Dovevo andare D'altra parte del mondo A cercare le pozzette Per i pesci Ragazzi Mi laserano Io impazzisco oggi Oh eccole Mannaggia Più rare oggi no Buongiorno Non vorrei distruggere Il mio elicottero Mi potrebbe far comodo Per altre missioni E non vorrei neanche Essere cechinato O trovare altri scar È finita Yeah Un'altra andata raga Livello 279 Ok Ora Mi avevate detto Spiagge sudate Trovo la cosa I deadpool Quindi ci facciamo Anche deadpool Top Vi piace Ci facciamo La skin grigia Di deadpool Con questa missione Tanto mi avete detto Dov'è Poi Vediamo Se riesco a fare La cosa Di esplorare L'altra location No dai Campione Un po' di rispetto Per chi si paga Un elicottero Anche siccome Sono ricco Devi romperlo Tutto rotto Adesso Io leggo Le freddure In chat Mannaggia Belli pantaloni Comunque qua Top Raga io non ci credo Che ha fatto Quella Allora Scusatemi Adesso Quale missione Ero lì Per fare Perché tanto C'era due di tre La trovo facilmente Agenzia Uomo di paglia E lapidi Lipidiche Lapidi Lipidiche Raga Cosa non ho visto Me lo scrivete In chat Al volo Quel player Mi voleva ancora Sparare Secondo me E poi dove è finito Il mio elicottero Geronimo Era lì Era arrabbiatissimo Siccome c'è un altro Elicottero Allora Lapidi Lipidiche Che è vicino A bosco Quindi questa zona No ma non ci posso andare Ho detto Vado in elicottero Fuori zona Poi ho pensato Che la zona è uno tsunami Non posso andarci Vabbè Quello Niente Lo farò in un altro In un altro game Che dite Proviamo la win Proviamo Eh Non ho detto Facciamo Non voglio peccare Di presunzione Qua Ma guardi Secondo me Dovrebbe però Calmarsi un po' Sì Vieni qua Elicottero Stasino Non ci sei più Mio dolce amico All'aldilà Tu sei finito Bella Ma chi è col cecchino Come un matto È il mio elicottero Appena esploso Ah se questo Continua a cecchinare A caso Lo buco Dov'è Dov'è Ma Dov'è Dov'è Ma è quello L'ho missato Ma è a sinistra E a destra Raga Pensavo fosse un bot Comunque Lo posso dire Guarda Guarda come corre Bravo Bravo 8 vivi L'elicottero è bello Che è andato Ah vuoi salire sopra Per continuare a spammare Col cecchino Vabbè io Penserò a qualcun altro Però Allora Nel mentre 27 mila persone Ripeto Stiamo superando L'evento di No vabbè dai L'evento abbiamo toccato I 60 mila Però 27 mila persone Per salutare La season Top Mi piace Ma non è possibile Che l'ho misso Ma sta ancora sparando lì Amico Sono qua No no Guarda 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 Da questo lato Mi vedi Mo mi cecchino A qualcun altro Ehi Dai 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 Riprova a mirare Mi vedi Sono fermo Vai Almeno mi ha visto Dai Su 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 Sfida di cecchino Non build E non buildi Ok campione Vediamo chi vince Vai 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 È una bella sfida No però Abbiamo detto Senza building Dai Ci siamo Ci siamo Uno dei due Sta per colpire l'altro È palese Ormai l'abbiamo capito Eh non ci sei più Eh Poteva succedere Ad entrambi Campione Era un gioco Alla pari Non sei andato male Però Hai un po' barato Billando Però Non era male Cosa avevi di bello Il Tommy Anche il tattico Leggendato Epico Vabbè Prendiamoci anche Sti due dai Eh Tre vivi Dove sono A giocare alla sirenetta Andiamo a cercare Non è l'obiettivo Vincere i match Perché devo far missioni Quindi in realtà Sto solo perdendo tempo Però vai Quando arrivo in endgame Ci sta Raga un pesce Mi sembra Un player Che notavo Top Eh Boh Ho misato Fin troppi colpi Con il cechino Contro quello lì Comunque Un po' mi vergogno Di me stesso Ripo il mamutino Beh magari Lo ritroviamo Un mamutino oggi Allora Dove sarà finito Ah Eccone uno Questo è un player Che va a caccia Saltella Sta farmando Questo è il top player Allora Cosa c'è qua Vabbè Mazzo Quindi sei full mazzo Addirittura Bravo tu Auto Blu Rega è scomparso No Questo è un mommy sniper Questo era mi sniper Mi viene un infarto Urlo Uh Esperienza Thank you Ok di fronte a me Dai ma gli ho aperto la porta Ah che bello Al trasfino di cechino Vai 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 Guardami Ghost hit Palese Palesissimo Ghost hit Raga Guardami Ok Quindi vuol dire Che non sto accedendo Dai non ho paura Facciamola È giusta così Mmm Ci siamo Ma porca miseria Bro Uno dei due Deve colpire l'altro Eh Ti ho preso E che caso Sei velocissimo Quei scillini Tu No però La scena Sta imbrogliando Sta scappando Raga Ora questo Mi fa i buildini Super tattici Sono già pronto Buongiorgio No ma è matto Chiuso Sì è matto Chiuso in casa C'è pure la minigun In questo Bravo 8 di beat Mi sei piaciuto Fermo con la minigun Guardate quante missioni ho fatto Top Allora 30.000 persone Ne mentre Velocissimo Quei scillino Prima Non mi è piaciuto Che è andato fuori Dalla casa E ha spaccato I muri di minigun L'essenza del gioco Ormai Top Allora Quindi Teoricamente Skin di Deadpool Grigia sbloccata E credo Non mi ricordo Sera 14 di 18 O 16 di 18 Che abbiamo sbloccato La possibilità Di scegliere La missione per mira Adesso andiamo un attimo A vedere Ehm Tavolo delle mission No Non lo Aspetta Si lo vediamo anche Missioni di Mila Me ne mancano 4 16 di 20 Devo andare a 18 Ehm Che noia Ma qui devo fare Sta missione Se avessi fatto Questa Ok Quindi è Ta 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 E poi Poi mi tocca Andare a fare Sto schifezza Di modalità Oppure Cerchiamo Il lamadoro Raga Se mi dite Dove è l'amadoro Facciamo il lamadoro Dai 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 Facciamo così Rendi omaggio Ai pantaloni di Deadpool Ah vabbè Sfida completata Ok certo Matte vado in solitaria A continuare a fare Un po' di missioni Che vado spedito Proprio di elicotterino E via Comunque Aver bruciato La win così Top Scemenza Allora La prossima La vena No non ci devo andare Alla vena Non ho missioni Per far quello No adesso facciamo Due missioni Quindi obiettivo Due missioni Per sbloccare La scelta con Mida Di prendere Spettri ombre E ci sblocchiamo Mida Dopodiché Ci sblocchiamo Tutti gli altri E poi Semplicemente Faccio missioni A ruota libera Per far più livelli Possibili E vediamo a che livello Arrivo Zero Livello zero È brutto Allora Lama d'oro Fatemi capire È In una casa Vicina La fattoria Sotto il ponte Di fattoria Frenetica Questo O questo Nella casetta Vicina Fattoria Eh raga Fattoria e ponti Casette Delirio Vicina Fattoria Che è vicina Fattoria Ok ci siamo Per il resto Non so No piuttosto Partiamo dal prenderci Un attimino Un elicottero Prima cosa Poi Faccio Quella delle Tre luoghi Da esplorare Che era tipo Uno qua Uno qua E mi pare uno qua E poi Andiamo a fare appunto Lama Che è sempre in questa zona Quindi 18 missioni Di 20 con mida Poi vediamo Vi piace? Dovrebbe starci Come missioni Allora Auto blu Corro Corro in città Messa lì Messa là Pum pum Allora Buongiorno Oh la Dove sta l'elicottero? Da quella parte Ho volato un po' Basso Allora Vi prego Per favore Non mi sparate Ok Nel caso in cui Poi decidono Di spararmi Facciamo così E così Easy Arrivederci Ah mai più Ok La casetta Sul ponte Visita Corallina Cappana E sito No 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 Ma cosa avete con gli elicotteri? Cioè Vi hanno Non lo so C'è qualcosa che vi è successo di brutto con gli elicotteri E sentite un bisogno Veramente Implacabile di distruggerli quando li vedete In questi momenti raga è meglio sempre farsi un po' di loadout Che poi magari capita qualcosa di brutto Devo fightare al volo E non ho neanche un'arma Quindi qua che siamo un po' safe Ne approfitto Certo che due volte la pistola Piango eh E raga Anche qui adesso Cosa sto facendo io Come missione? Eeeh Ecco Qua Vai Cioè Cioè quando mi capitano così a fortuna Ne approfitto no? Almeno faccio un sacco di missioni Brum Brum Elicottero blu Quindi Le missioni sono diventate tre Esploriamo questo posto Facciamo agenzia Con il posto del bosco Con quell'altro Più lama d'oro Tripla missione Devo dire che Devo dire che Con gli elicotteri Veramente rapido Forse le missioni eh Lo ammetto Che bella Ma è una casetta Così messa là Non sapevo niente Che esistesse sta casa Fatta? Perfetto Punti esperienza Lama Due match e due lama Se non essere bravi Ora dobbiamo andare tipo qua Se mi cecchinate Guardate eh Ragazzi ma ci sono 23 player vivi Neanche se iniziano a chiedere la zona Potrebbe dare un po' di colpi in più Lama Siamo tutti con te Beh ragazzi Sto facendo un sacco di missioni No Un altro a cui gli elicotteri Gli hanno rovinato la vita Raga Ma che sono veramente mati Ma cosa gliene frega Di sparare un elicottero Ma dai ma la smetti Campione Dov'è il posto da visitare qua raga? Me lo vorrei flaggare Ma uno mi lasera Allora Missioni di mida Missioni di mida Missioni di mida Missioni di mida Proprio da dove mi lasera C'è però lo sto anche provocando così Ah al pomodoro Ok Il posto peggiore Oh ma ti calmi Deve aver avuto una vita Veramente difficile Sto ragazzo Ora devo sperare Di poter fare il cambio Di elicottero La situazione è gravissima Raga Che coraggio Olie Benji Corri Corri Non è da tutti Correre con un elicottero Con cento di vita Eccolo Almeno questo La facciamo Ok Adesso mi avete detto La casetta vicino al ponte Nooo Questo è di quelli che rush O no Raga Aiuto E di quello che deve fare 10 miliardi di kill Conosce anche le tecniche Tra iardine Mamma mia Cioè Questi item Non c'è neanche in arena Già solo che lo so usare bene E' Veramente triste bro Vabbè bravo Quanti kill aveva? Cioè almeno ne ha fatto Almeno ne ha Spero che almeno Avesse tanti kill Eh non prema nulla Perché non ci voglia Ruba l'elicottero Sì un po' Era l'idea Però qui Ci sono i campioni Del mondo Che devono fare Le 40 kill Contro i bot Poverini Quanto ci deve mettere A trovare una partita? Il lama è Nel distributore Dell'isoletta A est Di fattoria frenetica Sto già volando Nel distributore Dell'isoletta A est Di fattoria frenetica Fattoria frenetica Isoletta Distributore Ma questa Questo è Non lo so qual è Est Campioni Vicino al ponte Isoletta Non vedo altre Isolette io Oppure Intendi qua Anche questo È un'isoletta No Forse più qua Non lo so Non ho idea Mamutino Allora Nuovo elicottero Dove lo prendiamo? Qua Allora Valla con ciò Passate ai ponti D'acciaio Viola Rossi e blu Bello Visita gli accampiamenti Costieri di Sky Nuota oltre i portelli All'agenzia Eh ne ho Ne ho missioni No Aspettate che Me lo state scrivendo Allora Il lama Sta nel riquadro G3 Nella casetta Tu sei un campione G 3 Affondato Che battute tristi Io di solito scendo così Faccio così E sbaglio questo salto E cado giù Vedete? Visto? E non so perché Continuo a farlo Mi triggerà con la bandiera La vorrei far esplodere E io continuo Inesorabilmente A fare quel salto E' una vita E' una vita fatta di Di difficoltà La mia Prima o poi La toglieranno Con la bandiera Va bene Era destino Raga Dovevo rimanere qua Era prese Bello che salta Invece che billare Mi piace Come strategia Posso avere un oscillino Grazie Molto gentili Questa almeno Billa Una R Ci divertiamo Un sacco Ma dai Ma non è possibile Mi sta mirando Con l'arco Aiuto Polizia Ma sei un matto Tu Aia Che male Che male Mi sono fatto malissimo Quindi Mi avevate detto G3 Perché mi ha tolto il segno Devo aver sbagliato Andiamo a G3 Allora eh Questo che billa Lo vedo già pronto a spararmi Lo distruggo Fatemi andare a G3 Per favore Ok Sta facendo slurp Dovrebbe lasciarmi In pace Stavo per dire È bello il tattico blu Mi sono reso conto Che quello è l'agendario Quando inizia la season Domani raga Per questo è L'ultima live Della season No G Non vedo l'ora Di prendere Quel mida Bellissima Quella skin G4 G3 C1 H3 Si mo Mo mi dovete dire Veramente In basso G3 G4 Non ho G3 G3 nella casa Vabbè comunque Devo andare in quella zona E cercare una casa Fin lì ci siamo arrivati Stefan Avevi 23 di vita Lol Ce l'ho fatto a caso Cosa ne pensi Del fatto che il 21 giugno Ci sarà la fine del mondo Ok Spero che almeno Sia un evento Più bello Di quello di Forne Ma voi dite La casetta Fianco al distributore Raga Per caso Questa No Quella è una casetta Anche quella è una casetta Tutta una casetta Vicino al ponte Quella Ma potevano scegliere Un posto dove non ci sono casette Che almeno dico io Mi dite casetta E vado dritto Sereno Invece no Ma è una gioia Nella mia vita Ho un po' di colpi di pompa Però invece Sì una bella gioia Io non voglio Chiedere troppo Dalla vita Con chi c'è 7 colpi Però Ecco grazie Gli scillini Proprio quello che volevo Allora Qua là ma non ce ne sono Quindi vado alla casa Vicino al ponte Ok Il problema Non è che io sono stupido Il problema è che mi date 100 direzioni diverse Quindi O è eterio E non sta da nessuna parte Oppure Qualcuno Mi dà le indicazioni giuste E qualcuno Mi dà sbagliate Cosa ben più probabile Guarda Io mi sono molto offeso Per questi tuoi colpi No Non è neanche qua Raga Ah no Sì Eccolo Top Grandi ragazzi Oh my god Ok Ok Allora Teoricamente Ora Noi Campioni del mondo Facciamo Pass battaglia Agenti Andiamo da Mida Esattamente E dobbiamo Dirli Ehi Mida Ehi you Ce l'hai il vestito nero Purtroppo non è blu Consegni armi leggendarie Alle casse delle ombre Cioè io devo prendere Delle armi leggendarie E darle a voi Invece che tenermele Ok Che è una bella skin Però qua mi stai chiedendo Tanto dalla vita Vabbè Armi leggendarie Potrei andare a prendere Delle armi leggendarie Al cavò Che dite Comunque quel colpo di pompa Non mi ha fatto nulla Cioè Sinceramente È stato un po' fiacco Allora Cioè sinceramente Penso che Si poteva impegnare di più Con quel colpo di pompa Mi ha un po' deluso Cosa dovevo googlare Ho detto Google qualcosa Non mi ricordo più Eh vabbè Memoria Da criceto Mi dite Di andare in risa squadre Eh ma Non ci sono un sacco di Cioè ci sono gli elicotteri In risa squadre Raga Perché ad esempio Perché ad esempio Per le armi leggendarie Resta squadre È peggio Perché non ne trovo Invece qua vado tipo A pozzo E vado nel cavo Ed è easy Cioè sicuramente dipende Dalla missione Però non mi ricordo Se ci sono gli elicotteri Questo ditemelo voi Comunque adesso Questa la facciamo così Allora l'obiettivo È mila Secondo me riesco a prenderlo In sto match Dai Sono fiducioso Sì esatto Cioè con quel colpo di pompa Poteva farmi almeno Un 400 Dai 450 Invece Un banale 200 No vedi Non ci sono gli elicotteri Mi dovrei muovere A fare Bill Salto Bill Salto E muoio Dai non ce lo voglio Mentre siamo in live Da 45 minuti Ancora 27.000 persone A vedere quest'ultimo giorno di season Che faccio le missioni Che non ho avuto voglia di fare No 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 Io non vorrei combattere Sono pacifico Eh ora c'ho poca vita Non mi aspettavo tutta sta gente È che se mi servono armi leggendari È un disastro Sono obbligato a fightare Raga Stta missione non è banalissima In rissa puoi migliorare le armi Ah perché farmo tantissimo Hai ragione Vedi questa è una bella idea No 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 Fammi rivedere Bello Sì E ha covacciato molto bene Quello è un altro player Che non ce ne sono ancora Dovrei Dovrei cercare Quanto odio sto posto Non c'ho maz Ok Ed è pieno di gente È scomodo muoversi Terribile insomma Allora Se non apro il cavo Non ho speranza Di trovare due armi leggendari Da consegnare E basta con questi cillini ora Ok Siete tutti così antipatici oggi Mi pushi che è meglio Raga dove è finita Dai no Non giochiamo a nascondino Non c'ho tempo Ho un impegno Devo fare 152 missioni E devo perdere tempo con te È sparito Dov'è? Ehi Ehi Vabbè Mi butto in acqua Mi sparerà Perché è nei ground E io dirò Oh mio dio È troppo potente E a quel punto morirò Mi spari Almeno ora che sono in acqua Ma non è quello No No Allora Dov'è nitroglicerina? Mmm Qui non è Calmo tu eh Ma ho sentito i passi O sbaglio È qui Il matto C'è ancora Lo sentite? No Mi sa più hit Steph Mamma mia Guarda Se muri contro uno Che mi sacco di tanto Ovvero io Devi disinstallare Cioè io Peccio di così Non potevo sparare Puoi consegnare il barret Se lo potenzi Sì anche io ci ho pensato Però Raga Farmare i mazzi In questa versione È un'agonia Posso far così Double barret E li consegno Ma dove è l'introglicerina? Però E l'animalta gioca a nascondino Dai che se arriva la zona È un incubo Allora Qui non è Eccola Raga L'arma mitica viene considerata? Ma vi volevi laserare di più? Sei più forte del player di prima Quanto odio l'acqua Addio elicottero Ti ho adorato Sei stato utile Per un sacco di missioni Fammela annullare No Ok grazie raga Top Però facciamo così va Ok devo potenziare Saldante un'arma La potenzio Qui Mi dite un posto Dove trovare le cassette Dove consegnare le armi? O me le segna Se seleziono le missioni Di mida Ehm Mida No perché la missione È specifica Di mida No Raga E ora come faccio? Comunque consegnare due barrette Mi piange il cuore Brughiere Pantano Brughiere Pantano Brughiere Pantano Brughiere Pantano Brughiere Pantano Pantano Brughiere E il problema è in che punto? Ah non mi farebbe schifo Avere un po' di mazzo Nel caso in cui qualcuno mi rascia Grazie Vabbè dai Più di 500 Va bene Ehm Brughiere Io capisco Avere sfiga nella vita Ma Ma c'è un limite Ma sei un contadino Ma che cavolo ci fai così Fermo a Pantano In un angolino Oh no Si era nascosto Io il player in normal raga Non li capisco Guarda devi morire Mori almeno Ma quello c'ha il pompa leggendario Dio dai un hit Eh i miei scildini Pagali almeno Mamma mia Oh Dai Ci ha farmato Guarda come ha sprecato tutto ciò che avevo Per nulla ha farmato No ma perché ho fatto di nuovo preparati Vado in risca squadra No 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 vado in risca squadra Noi conoscete che i contadini Sono i player che rimangono a piantare i pomodori per terra Invece che giocare e sparare E quindi tu sei in giro tranquillo Non senti nulla Perché lui è là Intento a piantare il prossimo pomodoro Di conseguenza è fermo Immobile E non fa rumori Quando arrivi Si ferma lì col suo pomodoro E inizia a spararti Ma uno può farmarsi Quelle cavolo di armi E morire con quelle Mamma mia Mamma mia Spacco tutto Spacco tutto Sto cavolo di mila E' un'agonia Poi mi dimentico Perché non faccio le missioni di Fortnite Chissà come non faccio le missioni di Fortnite Mamma mia Mamma mia Spacco tutto Allora Dove andiamo? Potrei andare all'agenzia O al grotto Sentite la mia voce No vado tipo al lago l'anguido Ma posso Giocare una lobby del genere? Raga Fecca proprioissimo Ah, vado no Eccomi Eeeh In modo che avevo lo vado Scogliere La mia voce non c'è più Non c'è proprio più E' scomparsa con l'auto blu Vai son pronto Tanta exp Non scomparire Yes Talmente inutile Ste cose comunque Ho fatto uno sputo di exp Allora pompa blu Da potenziare fattibile Nel caso Double pompa blu da potenziare Farmiamo maz Altra pompa blu Va bene No no se C'è Vabbè Vabbè Ok One And two Poi farmiamo rocce Non so se qua c'è il posto dove consegnare Ne avete idea raga Sinceramente io non mi ricordo proprio Perché non vengo mai Non so neanche se c'è l'upgrade weapon Non so nulla di sto postaccio Allora Ferro 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 Solo blu Altra blu Raga ma c'è un blocco per lermi blu O è il minimo io trovo solo blu Fatemi capire Perché non è possibile L'unica cosa positiva è che aveva Cioè Per il farm Era una buona idea Perché effettivamente posso fare l'upgrade Comunque mi dite che c'è Mi fido di voi Anche se anche in questo momento dite alcuni che c'è Altri che non c'è Avete Qua devo anche cercare forzieri Ottimo Oh Almeno un viola Quindi si può trovare Ok Sono soltanto sfortunato Poi 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 Continuiamo a farmare Eccolo l'upgrader Allora iniziamo a far questa Di sicuro Sì Il blu è il minimo Mi confermate Ok Più lento l'upgrader Eh no Mangio appena finito Sto match un po' Il problema raga è che non sto riuscendo a farmare abbastanza ferro Quindi Fare il double upgrade Sarebbe un po' problematico Ma ditemi voi se devo consegnare sto fucile a pompa bellissimo Che triste Questa missione è bruttissima Ma non è qua che si consegnano raga Ho un problema Pensavo fossero lì Devo aspettare che mi spiegate Ok Ferro 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 23 cestetti di ferro avevo Davvero Non più Ok Canoa Top Continuiamo Espetri Ah ok È vero che devo fare quella ombra Sono un genio Ma non devo spacarle queste Se voglio fare la missione Mentre Mi dimentico Ok Allora Ferro non ne ho fatto Però preferisco trovare un'arma viola Quindi Se il gioco mi vorrebbe accontentare Lo gradirei Mi volesse Niente Nulla Chi è cadratto l'RPG No ma stanno arrivando tutti qua Ma che Questo è un matto vero Sta sparando i colpi di RPG Sullo tsunami Che grande Gli arrovino raga No dai lasciamolo fare Che si sta divertendo No Posso aprire una chest Che fortuna Raga Parco pacifica Quello che mi serve Ditemi di sì Vi prego Ditemi che del team Che mi serve a me Prendi anche gli airdrop Sì adesso Le armi leggendali Non sono più un problema Il problema è che Con questa zona Non posso andare fuori safe Quindi O posso consegnare qui O meno Ciao Nat Mannaggia Dai Non rompere C'è qui un coso di consegna Raga Sì mi dite che li ho tutti e due qua Quindi E dove Ah elimina il giocatore A porco pacifico Vai top Beh sì per queste missioni Insicuro resta meglio Questo tipo di kill Così Dietro la scala No ma raga Mi serve sia l'upgrader Che il posto dove consegnare Che non mi ricordo Nessuno dei due Perché a porco pacifico Non vado Che bella frase La stessa per tutto Perché vero solo Nelle agenzie Bravo Campione A parco sì Ma è fuori dal bunker All'inizio del campo Da ovest Da queste parti Allora Il potenziato Sta nella benzina A parco pacifico Al benzinaio Ok Ah no no Altri jump Volevo jumpare Mi fa ridere Che mentre cammino Lasero Ok Qui potenzio Poi Ok Dove consegno Raga È l'unica cosa Che ci manca Sento Sto odore di pizza Buonissimo Qui 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 Questo è del team Sbagliato però No Esatto Non ho capito cosa mi state scrivendo Nel bunker All'inizio del campo ad est Campo da calcio Intendete raga Ah eccolo Ti prego Lasciamo in pace Bravo Hai fatto una bella figura Che agonia Che agonia Che agonia Sta missione Livo Livo Non me ne frega nulla Livo Proprio Zero pensieri Mida 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 Certifica Stile Stile E mi metto Questa versione La vuoi vedere Fede Che bella Portami anche un po' Zit Quella normale Mortadella Eh È bella Vero È bello perché Ho deciso di fare Il mezzo gold Cioè questa è la cosa Che mi piace di più Raga Top Super happy Finalmente Perché Cioè si è lanciata sulla pizza Ma ha problemi No Raga io non c'ho più voglia di vivere Quante missioni devo fare ancora Che buona sta pizza Allora Pensiamo agli agenti Non mi piace nessuna delle due Però preferisco un po' questa 17 di 18 Ok Quindi Fatemi vedere Sky Visita gli accampamenti costieri Ok Easissimo Easissimo Sky Faccio un rissa squadre Perché così li vo subito E mi accetto subito La missione Ok Sto mangiando una pinza Con zucchine Stracciatella Che è un formaggio E Mortadella Buonissima Bella sta skin Raga Allora Sky Cioè io mi butto proprio direttamente qua Così questa missione l'ho fatta E li vo No Stra easy Che buona Che buona Comunque dovendo fare missioni Riesco tranquillamente A farle mentre mangio L'unica cosa è che magari parlo un po' meno Devo ricordarmi di cambiare deltaplano anche in questa skin Non sopporto più sto tipo di deltaplani Guardate anche se sono in alto No Dai Cioè ma è davvero lì E non è qua Sì è più in qua Sembrava questo posto Era così carino Vado Vediamo Finito il glicerino Aspettere è facile Sì mi sa che ho anche quella da fare In questa squadra non ci sono? Non ci posso credere Bel fail raga Ha visto che ci sono Mi cambio questo Dai a lui gli diamo questo Dai che è tema Ci sta Sono stato tra l'altro raga C'erano? C'erano Ottimo Ogni tanto legge la chat Mi risparmia tempo Ogni tanto me ne fa perdere Ho visto 23-17 Di spettatori Guarda questo Guarda questo E' uscito un altro teaser Raga Fatemi vedere Noi mentre li siamo Le vedo All'ora e 15 È vero Sembra una nuova zona Che cos'è? Boh Io non li capisco Ci spisa Abbiamo un tridente Una cosa che sembra Un impulso Perché sembra un impulso E adesso Boh Bella sta skin Con questo delta plano Poi per un po' sta skin Magari non la userò Perché adesso Mi l'ha usato tanto Sta season e tutto Ma so già benissimo Che Sul lungo termine Sarò felice di averla presa Questa versione Mi Ah un accampamento costiero Dovrebbe essere un accampamento Mi spiegate Cosa sto cercando Cioè non capisco Ve lo giuro Adesso mi muovo Qua in giro E da qualche parte Lo troverò Però non capisco Raga ma sono intese Le spade? No No non ho mazzo Per salire basta Sì raga sto leggendo La chat O è questa Oh mamma mia Costiere Però Me lo metti Nella spiaggia Nella costa No me lo metti Sugli scogli Così Schifosi Ma la prendiamo anche Quella spada Ci arrivo? Sì sta formando Il legno Sì Così faccio anche Altra roba utile Ok quindi adesso Raga scegliamo La versione di sky E dopodichè Facciamo già La sua missione Siamo già Due skin Andate Ho già fatto Anche cosa Deadpool Quindi in realtà In questo momento Sono già due skin Sbloccate E stiamo andando Verso la terza Dai sta andando bene Comunque Allora Ora mi mangio L'altro pezzo Di pizza Ah Bella Bella Che ha la spada No funziona Dai spero di aver finito Con la missione Che quindi è buggata Altrimenti non so Cosa sta accadendo Ah Per me ha mangiato Pochissima pizza Come fa Con una cosa così buona A mangiarne così poca Bella a capire Allora Ci pensa Stef Ora E quindi Pass battaglia Se io vado adesso Su nitroglicerina Abbiamo urgente Scelta da prendere Mia cara Che poi ha detto Nitroglicerina Da sky Vabbè Scusatemi E trova Olli delle ombre Nella foresta Frignante Quindi devo prendere Il suo cappellino Giusto Comunque sto scegliendo Tutto ombre Alla fine Vi avevo detto Che avrei scelto Un po' Tanto tempo fa Ma non era vero Preferisco palesemente Ombre Vediamo adesso Su tutte le skin Magari almeno uno spettro Ci passa Però per ora Preferisco ombre Vabbè Tendenzialmente A me il nero Piace molto È normale Poi sono belli Anche le spettro Però mi piacciono Sempre un po' Di più Le ombre Allora Ho sbagliato L'ho rischipata No Non mi compare Mi sa che dovete Dirmela voi Raga Mi sa Di sì Sì Perché la foresta Frignante Vai Vicino alla macchina Ok Poi Più specifici Vicino al camper Raga ma capite Che foresta è gigante Se cerco un camper Divento scemo Allora Cappello Sky Ombra Mi sa che stavolta Qua Si è capito bene Vediamo Allora Così Stra easy Bella Fatto Easy No Le spade Non lo sapevo Ma allora È bellissimo Che top Ma ferri di questa È gelosissima Secondo me Raga È bellissima Questa è bellissima Cioè non pensavo fosse tutto il set Che bellino Faccio lo switch La uso Salve equipaggiamento Ok Poi un altro set Che uso poco Una skin che non mi sta piacendo molto Questa Selezione ed esci Allora Sky Do sta Beh Facciamo prima Salve ed esci Ma Vabbè Non so cosa Stesse facendo Top Ci sta la grande Poi Voglio Assolutamente Le sue spade Incredibili Le sue spade In versione viola Raga Queste qua Modifica stile Top E poi Chiudiamo Con il suo deltaplano Dove Eccolo Modifica stile Top Ok Quindi Modificato stile Modificato stile Lei ha già Modificato stile E direi Salve equipaggiamento Ok Ora Pass battaglia Prossime missioni Vediamo un po' Facciamo Prima nitrogricerina E poi Facciamo Miascolo E brutus Mi interessa Di più Nitrogricerina Allora Avevo deciso Ombre Come sempre Distruggi Le cassette Postali Degli spetteri Usando gli esplosivi Degli spetteri Ok Dove mi consigliate Di scendere Per una missione Del genere Cioè ci sono città Che ne hanno due O ne trovo solo una Per posto Fai il suo ballo Ah mi sono dimenticato Nooo Ferre ha detto Che gli piace un sacco Vai A foschi Raga scusatemi Ma in questa modalità Ci sono gli esplosivi Perché mo ho già nato questa Però ci ho pensato ora Questa è la pizza Più buona del mondo Che bellino Sì mi dite che ci sono Le granate Ne sto cercando Ma non vedo Già nulla Vabbè Qualcosa troverò Di esplosivo No Spero Ok Una cassetta è qua Il problema Sono gli esplosivi Sta cosa mi spaventa Raga Utilizza il motoscaffo Ah Tu sei un ragazzo Molto intelligente Non so il tuo nome Non so da dove provieni Ma sei stato Molto intelligente Però tratto le granate Quindi forse Se basta una granata Per ogni cosa Riesco già Sono confusa Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato team Vero Raga Io Cioè Non lo so Non Li confondo Sti cosi Ora ho sprecato le granate Sono uno scemo Di guerra Sono Meno male Dove sta l'altra Dove sta Dove sta Veloce Piccolo step Che arriva alla zona Questa Queste ombre Eccolo 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 Yeee Andata Rimangio la pizza Wow Anche per lei Ovviamente Set intero Raga Ste emissioni Sono bellissime Meno male Che non le ho schipate Meno male Meno male Ok Bello Bello Questo è più bello Del rosso Ma mi piace Soprattutto il piccone Mi piace più lei Però Però comunque Bello A questo punto Miascolo E brutus Hai visto Che figate Guarda che bella Lei Ok E hai le motte Guarda E anche Le spade Guarda che belle Cambiano Sì Vedi Sono viola Prima erano blu E un po' di missioni Avresti oggi Come giornata Per farla È bellissima Veramente È fighissima Ma sono molte Beh Di solito Sono 18 Però magari Qualcuna l'hai già fatta E infatti Anche l'intero Gricinio Ha sbloccato Tutta la variabile nera Sì Super soddisfatto Ora mi mancano Brutus E mi ascolo Qua dobbiamo scegliere Tombellini entrambi Loro Fanno ridere Entrambi Però c'è da dire Che comunque Gli ombre Sono sempre un po' più carini Sono un po' più carini Perché Sono skin Abbastanza carine Quindi Sono d'accordo Avere Come si dice La differenza La Cominare la parola Fiscura Capito Comunque Da un bel contratto Sono d'accordo con te La possibilità di avere Una fin fiscura Allora Pesca un'arma Una latina E un pesce Vedi Di pescare un pesce Eh no Sì Devi andare con la canna Da pesca E se quando puoi pescare La latina L'arma L'hai già fatta E si manca un pesce È impossibile Che in vita mia Non ho mai pescato il pesce Ma perché mai È possibilissimo Altrimenti Faccio questo Anche Abbastanza easy Dai Vabbè Comunque mi ascolo Let's go Io voglio fare Mi tradizioni E quindi Stai dicendo No Sei matta Io ti dovevo aiutare Sì Ma tu sei pazza Sì Ti faccio arrestare Ok Allora Allora Quanto le manco Come hai fatto A mangiare Quei poca pizza Non è buonissima Non è buonissima Tutti e due Hai mangiato Anche un pezzo D'altro Ah ok Ti manca la lattina Ah quindi c'è pesco Senza pozze E ho fatto Mi sembra strano C'è provo E mi fido di voi Mi sembra semplicemente strano Di aver mai pescato una lattina Da quando la missione Capite Vado ad un molo Prendo subito Una canna da pesca E vediamo Quante? Non lo so Non c'è più cyclo Raga Meno male Non evitiamo altre battute Non hai pescato la lattina Tra una sedina e l'altra Ti resetto C'è che hai pescato Ok Eh però Cioè in tre mesi Io non ho mai pescato una lattina Cioè sono uno scandalo Io io non sarebbe fiero di me Raga siamo A quattro skin Sbloccate Sono super contento Quest'anno però Non hanno fatto Le skin Overtime Quelle da sbloccare All'ultimo È un peccato La beccano Ok Già messo le variabili Comunque è fantastico Si toglie il cappello E diventa il suo deltaplano È geniale Giusto per dar fastidio Ovviamente Dai con la lattina Adesso Scar leggendario Ok Fatto C'è qualche altra missione Poi raga C'è qualche altra skin Dopo che sblocco questa Cioè dopo che finisco gli agenti O altro Salve signor miascolo Vorrei la versione ombra Anche di questa Consegna pesce alle ombre Ok Devo pescare insomma Ci sta carino Mi avete detto Devo fare maia Ma io a maia L'ho già finita raga Questa è la mia maia Vedete Questa è già completa Vi piace? Vai vediamo la chat Se vi piace Mi manca Miascolo e brutus E poi le dorate Ma mi manca solo la banana Si Vedo Un po' più si Che no Però anche molti no Dai però ci sono tanti si Quindi comunque vi piace Secondo me tipo Al 70% si Vedo La banana è livello 340 Lo so raga Infatti Cioè non capisco Se per me è fattibile Che buono Adoro il cibo Non capisco Si Ho Lo so raga Ok. La banana ora comincia a diventare al 300. Davvero. Perché inizia a 300 e si completa a 340. Manca Deadpool. No raga Deadpool lo dovrei aver finito mi sa. Quindi mi mancherebbero 19 livelli alla banana. Allora dove posso andare a pescare queste zone? Vediamo. Allora. Allora. Grazie. Schieno un messaggio. Allora. Beh, qui po' ce ne sono abbastanza, dai. Non ho fatto risa a squadre, se ve lo state chiedendo, perché lì la zona chiude più in fretta, quindi avrei meno tempo per pescare. Per quanto qua, se ho sfiga, uno viene e mi lazera, mentre pesco e spreco tutto. Fini. Wow. Ah, non più wow. Fine del wow, dai. Allora, vediamo. Ok. Non è possibile, oh. Sono una sfiga pescando. Posso trovare i pesci quando pesco? Io comunque, ve lo dico, inizierò a pescare più spesso, perché è il secondo scar che trovo. Oh, un pesce. Finalmente, uno di dieci. Va bene, pistola a blu. Poi. Sì, ma dove le consegni, eh? Beh, questa è una bella domanda. Però ci pensiamo dopo a dove consegnarle, no? Mi sta abitando totalmente, perché sto leggendo la chat nel mentre aspettiamo il secondo splash. Ok, due. Pistolin, 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 bling, bling. Eh, raga, lo so che è fortunato trovarlo a scar, ma vi giuro, oggi ho pescato due volte, due volte l'ho trovato. Non so che dirvi. Un marci. Eh, ne sono dieci di marci. Vedete? È assurda sta cosa. Sono equipaggiato meglio che se vado ad agency. Potrei... Sperare di prendere un elicottero. Perché comunque... Non sono obbligato ovviamente a consegnarne dieci di fila. Quindi già consegnarne quattro di dieci sarei contento. Questa missione di miascolo non è banalissima comunque. Se rispetto a quella che ho appena fatto di questo personaggio che ho, che devo prendere giusto un cappellino. No, devo far così. E siamo a cinque. Ora... Vediamo se qua troviamo l'elicottero. Con un po' di fortuna. Ah, in effetti posso fare anche i pesci piccoli, raga. Mi è venuto il dubbio. In effetti io sto pensando solo a quelli verdi. Effettivamente è più easy. Ok. Allora devo solo pensare ad arrivare a un posto dove consegnare. Non so perché adesso pensavo fossero almeno i verdi. Andiamo, andiamo, andiamo a frescar. Ok. Allora no, è molto easy come missione. Pensavo fosse più complessa. No. Questo elicottero rubato, no. Questo è un problema, raga. Allora, corriamone mentre va. Io probabilmente vorrei mangiarmi. Sto tanto un'altra fetta di pizza. Non... Non sento il bisogno di mangiare chissà quante altre. Sarei soddisfatto con un'altra fetta. Mi ascola un po' inutile per me da killare. Cioè, l'unica... Cioè, un bello scar... Ci sta. Eh, miau, 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 miau. Ok. Sto prendendo i momenti verdi perché erano missioni, mi sono reso conto. A corso commercial, raga, c'è il posto dove consegnare? Ma lì non c'è l'elicottero, ok. Raga, non gioco normal. Cioè, non ci posso fare nulla. Faccio solo arena. L'isoletta vicino a Brughiere. Sì. Forse faccio in tempo, vediamo. Eh, sta zona è un'agonia per fare le missioni. Andar fuori zona non sarebbe un problema. Ora sì, lo è. Veloce, piccolo Steph. È tipo quei film americani dove c'è l'apocalisse che sta arrivando e tu ti devi salvare con la tua famiglia e sei nella barca che cerchi di scappare e di sopravvivere. Ragazzi, il problema è che sta fuori o sta dentro? Dov'è? Nooo. È tutto andato perso, ragazzi. Mi dispiace. Ho fallito nella mia missione. Mi dispiace. Io odio la zona. Era moglie, tra l'altro, perché mi catapulta. Ma, almeno dico io, mira. Dovrei volar lì, guarda. È terribile sta cosa che hanno pensato. Vai più in basso, vai più in basso. Vai più in basso. Addio. Vedete? Queste sono le dimostrazioni che i film americani sono falsi. Che bella sta stuida, eh. Siamo alle World Cup. Tfew versus Buga. Ok, abbiamo finito. I miei poveri pesci. Ne avevo pescati con così tanta cura. E ora non ci sono più. Ma seriamente si muore così? Sì, è il motivo per cui la gente si sta lamentando dell'evento. Ma secondo me, infatti, lo modificano con la Season. Spero. 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 Io sono tranquillo. Perché sto... Dopo aver scontato che sta schifezza viene tolta. Non tanto per forza l'acqua come zona. Proprio questa meccanica. Che poi... Io sto miascolo e sto Brutus non li userò mai. È pura collezione di skin, ve lo dico. Le altre potrei usarle. Tipo questa è carina. Ed è figo, mi dà. Però mi asco le Brutus e non li userò mai. No. Allora... Ma lì c'è una canna da pesca No No Uno che ci fa qua Se non pescare Vabbè, so comunque dove andare a prenderla, dai Cosa ne pensi a nuova season? Non lo so, non è uscita Spero che sarà bella Però Il giorno prima Non è che si può pensare molto Io non avevo niente a far stare Volevo solo una canna da pesca Ma non c'è neanche qua, raga C'è là dietro di me il barile No, raga, ma dai, ma sto matto oggi Ho capito che sono stanco Ma c'è un limite Ma non qua C'è giù che all'inizio Oh mio Dio Come ho fatto? È grave sta cosa Allora Allora, la buona notizia è che ho finito la pizza La buona notizia è che sta missione È terribile Sapete che forse ci metto meno Con le pozze normali Ho il dubbio C'è con le pozze Normali un corno Vai, con le pozze Mi sa di sì, eh Qui mi addormento Perché sto sistemando attorno All'altro che ho finito di mangiare Rattina Vedete Mi sa che ho un po' di chance in più Eh, che sfiga però Uno di tutti i tipi È quello che non vuoi che ti succeda Allora, vediamo di nuovo Con un tentativo bianco Eh, col bianco Trovo quasi solo munizioni Vabbè Ora ne trovo Più viola che i verdi Pareggio Dato che mi aveva lamentato Che parola brutta appena detto Eh, vabbè Allora, per ora Vado a consegnare Cinque di dieci Tanta roba La zona qua comunque chiude lenta Quindi mi è andata anche a fortuna Il problema è la gente che fighta Vorrei andare a fightare anche io Questa ne pensi da safe Non mi piace Molto basilare Non me gusta Come non mi piace che c'è gente che fighta qua vicino Quando vorrei finirmi questa missione E lasciarmi alle spalle per sempre Miascolo Che E sinceramente Mi ha già rotto un po' Le scatole Mamma mia Dai 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 Almeno un altro Come on Ok Siamo a sette No No Otto Perché mi fai questo Perché mi vuoi far fare un'altra partita In cui devo pescare Rispondimi Dannata zona Me ne manca uno Può essere così crudele questo mondo Però prefisco consegnarle Che è sprecarli Ok Mi sono confuso Corri piccolo Meno uno Ti prego Non chiedo spesso un pesce Nella vita Ti scongiuro Non farmi Fare un altro match Ti prego Farò quello che vuoi Fortnite Quello che vuoi Dammi sto pesce bianco Maledizione Ti odio Non è possibile Ma così tanto ti sto antipatico Dai Te la spacco in testa Alla latina Già ho perso il posto di consegno Ora devo capire se posso consegnare In qualche altra zona Eccolo qua Raga Fattoria di che team è O non ce ne sono Fatemi sapere La vendetta del po' No questo è Fortnite Il po' non c'entra nulla oggi Beh però potrei andare All'agency Cioè è un viaggio lungo Quanto Un'infinità Mi manca già la vecchia zona Non dirla a me Guarda Avrei finito sta missione Con la vecchia zona Potrei finire di fare I 6.000 punti Con la vecchia zona Questa è la mia conoscenza Dei passaggi segreti C'è la fattoria Dite voi Io corro Io ci spero Cioè sto sognando ancora insieme a voi Questa conclusione di miascolo Raga C'è pure un elicottero Sembra quasi un miraggio Ah lì vedo una cassetta Penso sia quella dei spettri Però vuol dire che ci sono No è quella degli ombre mi sa No forse no Hey you Allora spettri Ovviamente nella mia vita Devo vedere quella che non mi serve Subito E l'altra neanche a pagare Ne devo vedere due degli spettri Raga spacco qualcosa eh Ma vado direttamente da agency Comunque da qua Sembra fuori zona agency Guardate Guardate il gioco di prospettiva Ma che Ma c'è anche Babbo Natale Lì in mezzo Ecco Gli invasati Che sparano gli elicotteri No Questo è quello Col rampino Ahia Ahia Ooooooooh Accidenti No, 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 no Il mio pesce, il mio pesce Questa è una delle cose più tristi Che mi sia mai capitato Ho perso il pesce, raga Ma dove dovrei consegnare? Matto Io odio sto gioco Lo odio, fa schifo Ho perso il pesce Questo ha sentito un mezzo rumore Sembrava Predator Ha sentito lo sparavendo E' arrivato Un pazzo Ma fatti arrestare Consegna pesce all'ombre 9 di 10 Ovviamente Lo aprivo 7 almeno Che vita difficile che ho Che vita complicata Io devo fare un match Per un pesce E dopo che abbiamo Brutus, raga Perché ci manca ancora il caro Brutus Cioè, questo qua è finito fuori zona Mmm Eh, stava fatto lì A dove, raga? Non l'ho visto C'è lì sopra sotto sopra Non l'ho visto Mannaggia Oh Vi massacro tutti Guarda che c'è le Le spadine da povero Bro Ci sono quelle viola Sei indietro bro Alla fattoria c'era C'era Ora non c'è più L'ho fatto esplodere Mannaggia Allora Bevo un po' d'acqua Pa 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 Non so se avete visto, raga Aveva uscito il video di Di T-Pock Poi ho pubblicato Un altro mini spoiler Sul libro di rinascita Che esce tra due giorni Perché avete visto Sto facendo il countdown Quindi ne sto pubblicando Uno ogni tot L'ho pubblicato sia su Instagram Che nelle storie di YouTube E E mancano Oggi ancora Lo spoiler numero due Della linea scolastica Quindi spoiler due di dieci E dopo di che Un'altra robetta Non dico altro Ma in realtà ve lo dico qua dai Ve lo spoilerò qui E poi lo spiegherò Nelle stories Di YouTube E di Instagram Per chi Completa l'album di figurine Ci sarà la possibilità Di partecipare A degli eventi Specifici con noi In gioco Quindi su Fortnite Roblox Eccetera eccetera E di chiacchierare E giocare con noi Quindi praticamente Faremo dei server privati Soltanto con le persone Che hanno terminato Ad esempio L'album di figurine Ok Su Fortnite E su Roblox Eccetera eccetera E voi potrete giocare E chiacchierare con noi Forse riusciamo Forse riusciamo ad organizzare Anche per poter Chiacchierare Però Stiamo cercando di capire Se è fattibile Ci sono alcuni problemi A riguardo Quindi stiamo cercando di capire Adesso la fioccina Se è fattibile Anche quello Per chi è interessato Ci fare a questi eventi Che è un modo Per ringraziarvi Per aver finito Ovviamente L'album di figurine Ve l'avevamo promesso Ci stavamo finendo Di organizzare Ma faccio anche io Il matto Che spara gli elicotteri Come ti senti ora E' brutto così Vero? Lo so Che è brutto C'è video su 2players oggi? Sì Esce semplicemente più tardi Alle 16.15 Quindi questa live E' completamente Un contenuto extra di oggi Non è sostitutivo ai video Ma lo sapete raga Non facciamo mai nulla Di sostitutivo ai video Quindi Andate sereni Che Al massimo avete contenuti in più Allora Ole Finito miascolo A me mancano solo 5 figurine Perfect Puoi stare zitto Ma non credo di poter stare zitto Quindi Ricapitolando Si dimostrerà tramite una mail Che vi diremo a chi mandare Ok Di aver terminato la collezione Dell'album di figurine Quindi aver terminato tutto L'album di figurine E per 4 domeniche Potrete partecipare a 4 eventi Che saranno fatti in live Qua su 2players Dove potrete giocare con noi Chacchierare con noi Eccetera eccetera Eeeh Borgo bislacco Ma non lo so Ma che domande sono Eccolo qui Il nostro caro miascolo Ci sta Raga Situazione Facciamo un recapino Deadpool Che qua è una situazione grave Con l'acqua Domani reazione Pass battaglia Certo ragazzi Quindi Deadpool Full sbloccato Tutte le versioni Senza maschera Versione grigia Ok Poi E Maya Vi facerà tutto Maya Completamente fatta Va bene Agenti 1 2 3 e 4 Andati E ci manca Solo Brutus Mamma mia raga Che qualità Questa season Ma sono fatta Proprio bene Ok Ruba i piani Della sorveglianza Dal pozzo Dallo yacht O dallo squalo E consegnali Alle ombre Beh lo faccio Allo yacht Perché poi li consegno Lì a cosa Ok Easy Mi sta avendo Un po' di sonno A me a questa ora Viene sempre sonno Ci posso far nulla Comunque ripeto Poi tutta questa cosa Dell'album di figurine Ve la spieghiamo bene Nelle stories Sia di instagram Che di youtube Quindi anche se non avete instagram Comunque le spieghiamo Anche su youtube E E potrete partecipare tutti Cioè se voi mandate Poi la mail Per dimostrare Di aver completato l'album Raga partecipate al 100% Poi Ovviamente Se avete terminato L'album di figurine In 10.000 Magari non riuscite Tutti 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 Ad entrare nei match A chiacchierare Eccetera eccetera Però le possibilità Sono tante Perché comunque facciamo 4 eventi Non uno 4 domeniche di fila Di conseguenza Le possibilità Di Di partecipare A qualcosa Con noi Sono alte Secondo me Anche perché Non penso che Partecipano 10.000 persone Perché comunque Mandare la mail Eccetera eccetera Alcuni Non Diciamo Non lo fanno Perché molti Non hanno mail Non usano le mail Eccetera eccetera Quindi magari L'avete completato Anche in più di 10.000 È molto probabile Però secondo me Non parteciperete In truppissimissimi La mail raga La specificherò Nelle stories Sia di youtube Che di instagram Quindi dopo Vi spiego tutto bene Perché così In live Non È un po' scomodo Comunque sappiate Che non parte Da questa domenica Ma da quella dopo Così se appunto Non avete ancora Terminato la collezione Avete La possibilità Di completarla E E sarà per 4 domeniche Di fila Oggi mi arriva la switch Finalmente Bello È una gran bella console Cioè mi piace È comodo Tararararam Dai che ci manca Solo brutus Raga Ho volato Bassissimo Sbaglio sempre Il land Aiot Non ne sono Proprio in grado Mannaggia Ok Ok Il motoscaffo Cavalca la zona No esplode Poi magari C'è qualche modo Di buggarlo Raga Sapete dove sono i piani? No Ma puoi morire male Non c'erano player Vabbè Io mi devo triggerare oggi Non è attivata la missione Sì che l'ha attivata No Sto leggendo un po' la chat Ma l'ho attivata No Sotto nella cucina Ok Che fa sto qua Che cattivo Se la butto sotto in acqua Io non so quando è arrivato sto qui Sono solo che vorrei distruggere Maledetto Ho mangiato troppo Ho anche sonno Mi addormenterò E mai mi risveglierò No 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 Sono proprio bravo a cantare Sapevo io che devo fare un altro lavoro Sì l'hai attivato Ok infatti Comunque boh Io non so dove è arrivato quel tipo Mi triggerò Quando è capita così Vieni qua Caricando Ma almeno il land è più rapido Però vuol dire che ci sarà anche più gente E quindi domani nuova season Dopo dieci anni Sta season non so quanto è durata Ma penso cinque mesi È stata Comunque hanno fatto due season in un anno Praticamente Poco meno Perché il buco nero era tipo ottobre Quindi tipo due season in nove mesi Veramente Un ritmo terribile da parte dell'Epic Games Però dai Speriamo che Che riattivino un pochino i cricetti Che girano la ruota E E tornino a fare più update Perché è un po' triste Quindi Finalmente si va sulla nuova season Speriamo qualcosa di bello Raga Io Boh Per ora non ci penso neanche troppo Perché Perché poi magari ci rimango anche più male Bella sta pistolina blu Dai Andiamo così In origine va fino al 30 di aprile Eh sì esatto ragazzi Siamo A metà giugno Quindi un mese e mezzo di ritardo E tanta roba Ok Allora Circa quattro mesi un po' meno Ah dai Comunque non è stata troppo lunga Cioè mai quanto l'altro L'altro non si batte Lì veramente hanno fatto passare a voglia di giocare A mezzo mondo secondo me C'è tanta gente cattiva Io vorrei semplicemente andare in cucina però Ehi E' stato più piacevole del normale Farti fuori amico Cazzo lo butto Facciamo così E andiamo in cucina Quindi ragazzi è qua Dove? Vediamo Questa è la cucina Ragazzi dove sono? Vi prego Non voglio continuare A far questa missione brutta Davanti alla porta D'entrata del cavolo Raga ma quella non è la cucina Dove c'è l'aerdrop? Ah l'aerdrop non era preso Ok quindi questo mi stavate dicendo Si in effetti sto qua e matto Sotto la cucina Ah l'altra cucina Questa cucina Mi sto iniziando a triggerare Non scrivetemi dietro Scrivetemi dove Perché tanto dietro di fronte Ragazzi è troppo di lei Allora Steph Ci sei già passato davanti Lo scaffale Che assomiglia a un server Ah Maledizione Stavo cercando Una cartina O qualcosa del genere Ma dai Grazie raga Mi aspettavo qualcosa di cartaccio Con i documenti Non stavo pensando ai server Maledizione Ok Dobbiamo solo consegnare Dai Ci siamo E' andata L'abbiamo fatta E' finita Un'avventura E' giunta al termine Ragazzi Tutte le skin Sono state sbloccate Ce l'abbiamo fatta Ha detto C'è l'ho benedetto Lo dovrei dire anche io Guarda Per aver finito Sta roba No ma così Vado a troppo basso Aspetta Voglio la spinta full Che bello doubt Che abbiamo Infatti vado dritto A sparare gente Quando muoio Quanto è brutto La gancia ti fa Cos'era quel rumore? Ok Ho sbagliato Ok almeno siamo in zona Ora mi muovo con la barca Ma è finita la season? Sì Nel senso domani c'è la nuova season Quindi Today is the last day Deadpool fatto Maya fatta Tutte le skin fatte Tutte le skin d'oro sbloccate Tranne Gold banana Che però Sì ragazzi i piani li ho consegnati Che però non so se mi sento di fare ragazzi 19 livelli di exp Facendo altre missioni Cioè sono distrutto vi giuro 4 ore di arena mi stancherà molto meno D'altronde mi diverto di più Quando faccio l'arena Come sarà ridotto Quell'elicottero Potrei andare in giro con quello Se è messo bene A che ora domani la season? Beh di solito va tutto offline Alle 9 10 del mattino E poi E poi si vede Io l'esame tra poco Cioè così oggi durante la giornata Che agonia Cioè Fa strano non andando a scuola Comunque buona fortuna ragazzi Per chi ce l'ha Buona fortuna Cioè appena ci salgo Dov'è poi? Dai non me lo rovinare del tutto Che devo riusare se ti killo Bravo Complimenti Ora cosa spari? Ti giuro che se fossi morto io Mi sarei Non lo so Distrutto da solo la faccia Con un player brutto come te Non si può morire Mannaggia Cioè raga Aveva La mitra No Ma che lo dà a te? E rip Io mi triggero Non possono esistere questi player Ma lo faccio anche io Andiamo Forza Sono arrabbiato adesso Un medikit per favore Muori Ho chiesto anche per favore Fa rinnotare Cioè Che lo dà a te era Un matto Un matto sto qua Ah io adesso lo so Che mi metto a pescare E trovo Scar Armi che non è Tutto quello che viene in mente Tranne ciò che mi serve Pronti eh? Ora si ride Pesce Ok Non mi posso lamentare Guarda mi dai anche il pesce viole Siamo migliori amici Di nuovo Però non mi lamento Ok Vediamo adesso Pesce verde Di nuovo Vabbè dai Sbaglio stanno sparando Vabbè Ci avete Cioè qualcuno vi ha fatto arrabbiare molto Nella vita però Proprio Verrei sapere anche Cosa è stato Perché vorrei capire Cosa ti porta ad essere così Nella vita Tebo Con che cattiveria C'è stato quel push Neanche il tempo Di guardarlo in faccia Ho avuto Vabbè Vabbè Allora Ed eccoci qui Anche con Brutus Ok Carino Carino Dai ci sta Non penso che lo userò mai Però per collezione Ci sta Ed ecco Tutto completato Raga Finito tutto Ripeto Mi mancherebbero le missioni Che Se guardate Sono 40.000 exp Qua 10.000 25 25 55 Che è effettivamente Tanto 10.000 55 Che è effettivamente Tanto 10.000 25 25 55 25 10 10 10 Qua finito Vabbè A livello di exp Non so Forse Ci sarebbe la possibilità Questi sono altri 80.000 Questi sono altri 80.000 80.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Penso che mi ritroverei tipo a livello 290 Qualcosa del genere Non lo so E sarebbe una gran fatica Mi sa che sta banana dorata La lasciamo dov'è raga Dai Io direi di far così Ehm Nulla raga Grazie mille per la compagnia Siamo stati tantissimissimi Salutiamo con un 23 3 2 3 likes Vi giuro 23 3 2 3 likes In questo momento Quindi c'era un doppio Un triplo 23 anzi E Questa season L'abbandoniamo così Bella 281 livelli Comunque rappresentano Una bella nerdata Quindi si capisce Che mi sono giocato tanto Una delle season Penso che ho giocato di più Da quando esiste Fortnite Speriamo Che la tempesta Venga cambiata Nel senso Va bene L'acqua Ma Non ci deve essere Il fall damage Quando ti butta fuori Minimo Proprio il minimo Sindacale Quello Vediamo cosa faranno Vediamo cosa esce domani Che zone cambiano Cosa aggiungono Cosa tolgono Vediamo cosa ci aspetta Ovviamente domani Usciranno un sacco di video Non so se saranno Solo video più live O live più video Insomma Vediamo un pochino Di sicuro Reazione post battaglia Che ormai È una cosa che facciamo Da due anni Quindi ormai È tradizione del canale Dopodiché Vediamo un pochino Quanti video pubblicare Cosa abbiamo di fronte Eccetera eccetera Perché è tutto Un gran punto interrogativo Anche per noi Quindi Diciamo che Faremo in base A quello che Che ci capita di fronte Quindi Preparatevi Perché domani Nuova season Oggi comunque È già uscito Tipo Okplace 13.30 Esce Alle 16.15 Un video di GTA 5 Quindi C'è un video di 2 players Più tardi E ci saranno Appunto Alcuni spoiler Durante la giornata Linea scolastica Con 7 Eccetera eccetera Annuncio appunto Per l'album di figurine Con lo spoiler di rinascita Già fatto Che esce tra due giorni Grazie mille Da compagnia Ci vediamo più tardi Con gli altri video E domani Con la nuova Season di Fortnite Grazie mille